Continualo, vai nel tuo posto e continualo, camminare, avete 10 minuti, non di più Ah ma perché tu sei da per scontato che non è finito? No, so che è finito, però so anche che sono molto scarsi nel fare le cose, quindi Almeno controlla la grammatica Ci vuole sempre una ripassata nelle cose che fanno, ecco, venite Una miglioria, eh, paga è morto Ma scusa, ma Ma ho provato a volare senza litra Che demente Riporti per favore, ti prego, portami per favore È urgente Che demente, sei proprio un demente Ma che schifo, vedi che la rapiti Ma come poteva amarti qualcuno, ma tu pensi di essere amabile Tu sei uno schifo vivente Mio Dio Ma 5 secondi dopo che l'hai impostato È incredibile, è incredibile